PANCO PALLINO E quindi chiuderà il pubblico per quattro anni e da allora le campane non suoneranno più, men che in occasioni importanti e festività, tipo il 21 aprile per il compleanno della regina Elisabetta. Quindi in questo video, per ricordare come suonavano e per annunciare che nel 2021 ritorneranno a suonare, ascolteremo l'ultimo battiore delle 12 prima di un silenzio di quattro anni. A dopo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!